si 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 che c'è parecchio hype parecchio interesse si vai tranquillo dovevo capito ah 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 si siamo carichi agiremo uniti ulf 141 e shadow tutti insieme ah makarov makarov ti prenderemo ma già abbiamo preso e siamo con makarov lo so perso sei sicura se non facciamo così abbiamo perso cosa penso qualche dettaglio della storia no non mi piace fc e fifa ciao mario tutto a posto grazie per il follow vigor tutto bene mario fortunatamente si ma sono ripreso dallo stato influenzale andiamo sado 1 squadra di terra in attesa al cimitero a ovest siamo marcati con luci strobo confermare ricevuto attendete confermare da che fc 24 per cosa sta che è fifa qualcosa del genere ah oh tieni premuto eh per zoomare devo zoomare artigliare conferma ok 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 ricevuto il bersaglio sono i due anga ci muoveremo al tuo segnale marco minaccia il cimitero mantenete la posizione a terra i due hangar sono questi artigliare fuoco di copertura spazza via quei nemici si bello mettiamoci al lavoro shadow fammi sparare no non mi piace non mi piacciono giochi di calcio non mi piace neanche il calcio nella vita reale ma come sparo fuoco 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 i cimiteri sanno di noi col portegno minaccia al nord est gente nemici alla torre di comunicazione artigliare inquadra subito quella torre sito sang vicino alla torre artigliare spara un missile su quel sito sang onnice sta puntando colpisce quel sito sang con un missile sito sang nemico spabum spaglio distrutto vediamo fa fuoco sul cimitero addosso al cimitero dove è il cimitero ah è qua nemici al cimitero non ci sono più lo vede tutto la squadra di terra avanza attraverso il cimitero affermativo shadow in copertura quello è pieno di buchi va contatto shadow truppe sotto attacco fuoco di copertura shadow conferma accediamo interrotto emolini dove sei? vieni qua quadra di terra avanzate affermativo avanziamo coprite gli shadow ok li copro colpo segno abbiamo nemici in arrivo da sud marco 3-1 contatto ok vai aereo di coni in decollo estremità ovest della pista ricevuto jet coni marco il bersaglio marcam il bersaglio dove sta? che fa? amici attraversano la pista squadra diversi coni sulla pista state al riparo vi apriamo un barco quello non si muoverà più ricevuto squadra in attesa sud ovest proteggiamo la squadra di terra non spariamo sugli armi vai scusate sono un attimo impegnato scappate pure vi beccheremo lo stesso carico i colpi squadra di terra all'hangar 1 andiamo dentro minacce in uscita dalle strutture sul lato sud della base marco artigliere non far avvicinare i coni a quell'hangar ricopro io chado 1 il primo hangar è libero cerchiamo le sostanze chimiche ricevuto no cessare il fuoco sperando sui nostri artigliere fuoco di rpg col portegno rpg avvistato torre a sud dell'hangar 1 chado centralizzare gli rpg coni non deve distruggere gli hangar ricevuto capo a squadra di terra rapporto buco nell'acqua all'hangar 1 l'angar è libero di spare ho capito però siamo certi che manca lo tenga tutto nella base vai no ho distrutto l'hangar sono arrivate troppe truppe in prima persona ma sarebbe bello se si potrebbe cambiare la prima in terza persona ah ok oh fuoco di rpg rpg avvistato torre a sud dell'hangar 1 shadow neutralizzare gli rpg torri non deve distruggere gli hangar capo a squadra di terra rapporto fuoco nell'acqua all'hangar 1 oh cessare il fuoco ho capito però siamo certi che l'hangar lo tenga tutto nella base se non è in quell'hangar sarà nell'altro controllate bene prima di proseguire ok ci tasseremo a fondo l'hangar shadow 1 ci dai copertura? abbitate prima di sparare ah ehi oh mamma mia oh scusate ragazzi mi sto concentrando un attimo e vi leggo poco sta missione un attimo ti distra colpi di mortaio in arrivo da nord ovest artigliere spara a quei mortai i mortacci loro non li vedo mi stanno sparando shadow 1 distruggi quei mortai il prossimo ci beccherà razzi in arrivo non li vedo segnalatemeli ciao marco ken buonasera niente arsenale chimico hangar 1 pulito squadra di terra all'hangar 2 shadow in copertura dall'alto ok gold eagle ci siamo squadra di terra ricevuto andiamo all'hangar 2 colpi di mortaio in arrivo da nord ovest artigliere spara a quei mortai ma non li vedo dove stanno shadow 1 distruggi quei mortai il prossimo ci beccherà eccolo razzi eh che cavolo non li riesco a vedere mannaggia a tutte le unità a tutte le unità qui niente arsenale chimico hangar 1 pulito squadra di terra all'hangar 2 shadow in copertura dall'alto ok gold eagle ci siamo squadra di terra ricevuto andiamo all'hangar 2 forse esti nemici uccisi ah caro quel bastardo erano solo quelli per la base pur di tenersi le armi chimiche sono nell'altro hangar forse c'è anche lui quello è andato razzi in arrivo a est del legato avvisci quegli rpg rpg no ma a tutti hangar 2 libero attenzione l'arsenale chimico è qui e macarò negativo quello c'è forse è vicino squadra di terra neutralizzare le sostanze shadow resta in copertura proteggeteli finchè il lavoro non è finito ricevuto gold eagle a tutte le unità comunicazioni con intercettate fuori dalla base e tu sei sempre quello più lento e veicoli corazzati quelli vi faranno penare ricevuto capo carro nemico lato nord della base shadow 1 quel carro non deve distruggere l'armi addosso artigliere sai cosa fare elimina quel carro farò un missile a quel bastardo lì c'è la torre radio anzi c'era ambarapacci ciccocco beccati stocomo carro nemico distrutto bene odio per gli affai vedi bello oh andate Peccato! Non si rialzerà più! Tenimi lontani dall'hangar! E in gamba, artigliere! Attacco riuscito! Preto! Missili arrivo! Vai! Vamo! Arrivo! Così si fa! Graves, arrivano veicoli nemici! Stanno puntando al deposito di carburante verso nord! A tutti! Connie sta preparando un altro attacco! Facciamoli fuori! Questo è il caposaldo di Connie in caposaldo! Pazzatelo via! Attenzione, Shadow 1! Aprono le porte di un edificio all'estremità ovest della pista, vicino al cimitero! Jet nemico a ovest della pista! Sette, al lavoro! Sette, colla! Simonello, merda! Benvenuti in Urzikstan! Jet in decollo! Partiliere, foto sul jet! Spara davanti a lui! Allontanali dall'hangar! Proteggi la squadra di terra! Beccatevi questa strassi! Jet numero 2 è distrutto! Dai! Mamma mia! Merda! Pissile in arrivo! No! Ho ucciso qualcuno dei miei! Orcocan! Ah, non lo so quanto mi manca! Carro in emisi in direzione nord! Non permettete al carro di colpire le sostanze chimiche! Sì! Scacciò un missile! Uh! Così ci fa! Graves, arrivano veicoli nemici! Stanno puntando al deposito di carburante verso nord! A tutti! Connie sta preparando un altro attacco! Facciamoli fuori! Questo è il caposaldo di Connie in Urzikstan! Passatelo via! Attenzione Shadow! Aprono le porte di un edificio all'estremità ovest della pista, vicino al cimitero! Jet nemico a ovest della pista! Dai! Sette colla! Siamo nella merda! Beccatevi questa stronzi! Jet numero 2 è distrutto! Nemico a terra! Allontanali dall'hangar! Proteggi la squadra di terra! Benvenuti in Urzikstan! Merda! Missile in arrivo! Stato! Ho capito l'hangar! Teneteli lontani! Olpo a segno! Quelli pensavano di essere al sicuro! Shadow 1! Proteggete la squadra di terra! Vai! Scusate! Sono diventato silenzioso! Dai forza! Dai Gribio! Dai! Dai! Termini arrivino! Munizioni esaurite a tendere! Angolo nordale! Centrato! 1 di meno vai ok vai forza abbiamo finito no l'elicottero vuole distruggere l'hangar serve aiuto l'elicottero precipita ce l'ho fatta yes 140 euro queste qua sono le astro a astro a qualcosa non mi ricordo più astro a 60 a 40 le astro a 40 ma ora forse si trovano a qualche pre o prezzo un po' più basso sono un ottimo suono no musica a dire la verità ne sento poca ok fatto non sono tanto amante della musica in verità ma scusa ma quell'elicottero che abbiamo abbattuto c'era Makarov sopra non ho capito sei a tutte le unità l'uccisione non è confermata ripeto l'uccisione non è confermata dobbiamo cercare identificare Makarov eh capo Goldigold qualcuno non è morto allora Makarov e allora è vivo Makarov è di quei tipi che se non confermi la morte è sempre vivo ma ma puzzo un pochettino è saltato all'ultimo dall'elicottero ma secondo me non c'era proprio sull'elicottero quando ho detto loro se è vivo ce lo farà sapere capitano dove e quando resta da vedere grazie a tutti